Secondo me abbiamo fatto un buon torneo, abbiamo pagato un po' la pressione subita nella prima partita che ci ha un po' fatto calare nel finale, però dalle sconfitte si impara, quindi quello di cui abbiamo parlato e di cui le ragazze soprattutto sono state convinte da subito è che queste sconfitte servono soprattutto per imparare. Lavoriamo principalmente per arrivare ad obiettivi importanti, guai da parte nostra se lavorassimo solo per conquistare qualcosa di semplice, perché sarebbe da mediocre e noi facciamo parte della nazionale e della nazionale italiana, quindi noi lavoriamo solo e soltanto per grandi obiettivi. Grazie Grazie Grazie